Leggo ora due straordinari paragrafi tratti da un testo di Edmund Husserl tradotto in italiano con il titolo Fenomenologia e teoria della conoscenza. Il testo in generale si configura come una sorta di introduzione alla fenomenologia, una delle numerosissime introduzioni alla fenomenologia che Husserl ha scritto, ed è un testo molto agevole rispetto ai canoni husserliani. Ecco, i due paragrafi davvero strapitosi che qui voglio leggere sono i paragrafi 26 e 27. Il paragrafo 26 si intitola L'opposizione di trascendenza e immanenza e il 27 si intitola Il trascendente nell'atteggiamento fenomenologico. Secondo me questi due paragrafetti possono davvero essere considerati come una sorta di somma, di riassunto mirabilissimo, efficacissimo, a tratti commovente, che Husserl fa dell'intero discorso fenomenologico trascendentale. Ecco, prima di leggere questi due paragrafi, che sono talmente chiari che quasi si commentano da sé, vorrei però dire due cose introduttive. Anzitutto bisogna dire brevemente che cos'è la riduzione trascendentale. La riduzione trascendentale è quel procedimento che ci permette, mediante la preliminare epochè messa fuori circuito del mondo, è quel procedimento, appunto, la riduzione trascendentale, che ci permette di concentrare la nostra attenzione, potremmo dire non sugli enti, ma sull'essere. Cioè, non sulle cose, ma sulla condizione delle cose. La condizione non può essere una cosa fra le cose, dovrà quindi, appunto, essere limite, trascendentale, non reale, bensì irreale. E, appunto, come si diceva, la scoperta di questo fenomeno irreale, che è la coscienza trascendentale, così lo chiama Husserl, si basa sull'epochè, sulla messa fra parentesi del mondo, di tutto ciò che è trascendente, il mondo naturale, il mondo dei teologi, eccetera, eccetera. Scrive Husserl, nel paragrafo 32 di Idean 1, noi mettiamo fuori gioco la tesi generale inerente all'essenza dell'atteggiamento naturale. Mettiamo tra parentesi quanto essa abbraccia sotto l'aspetto ontico. Dunque, l'intero mondo naturale, che è costantemente qui per noi alla mano, e che continuerà a permanere come realtà per la coscienza, anche se noi decidiamo di metterlo tra parentesi. La coscienza, infatti, non si dà mai al di là del mondo, però non è mondo, cioè non è un fatto. Si mostra però sempre nel darsi degli enti. E gli enti, appunto, non sono più intesi, una volta messo fra parentesi l'atteggiamento naturale, gli enti non sono più intesi come delle sostanze, dati sempre identici a se stessi, ma sono sempre al di là di sé, proprio perché in essi si mostra quell'eccedenza rispetto ad essi. Cioè non sono più considerati delle sostanze stabili, dei dati di fatto, ma delle essenze. E l'essenza per Husserl non è più qualcosa di platonicamente intesa, cioè come una sostanza stabile sempre identica a se stessa, l'idea di uomo, l'idea di cavallo, l'idea di tavolo, ma appunto l'essenza è sempre qualcosa di individuale, quindi ogni uomo ha la sua essenza individuale, e l'essenza è in qualche modo un paradigma che si modifica via via. Non è mai qualcosa di stabile, no? Il discorso Husserliano è un discorso analogico, ma un'analogia estremamente bizzarra. In Platone l'analogia come funziona? C'è un dato uomo empirico, poniamo Socrate, di Socrate posso dire che è uomo, perché dico che Socrate è in qualche modo analogo all'uomo in sé, l'idea di uomo. Cioè l'analogia si dà tra l'ente empirico, più o meno uomo, e il paradigma che è sempre uomo, che è assolutamente uomo, in ragione del quale io posso affermare l'umanità di Socrate, che pure è e non è uomo. Nel caso di Husserl invece, una volta che mettiamo fra parentesi l'atteggiamento naturale, e quindi superiamo l'opposizione soggetto-oggetto, in quanto la coscienza non è altro dal mondo, ma è ciò che si mostra come condizione del mondo, come condizione dei fatti, ebbene una volta che mettiamo fra parentesi l'atteggiamento naturale, e ricaviamo appunto da questa messa fra parentesi la coscienza come fenomeno irreale, cioè come un non-ente, riduzione trascendentale, appunto una volta fatto ciò, possiamo finalmente intendere gli enti non come qualcosa di statico, di stabile, ma come paradigmi di se stessi, l'analogia non è più tra l'ente empirico e l'ente ideale, ma l'ente empirico è esso stesso l'ente ideale, è l'idea individuale di se stesso, ma questa idea non è un paradigma assoluto, ma è qualcosa che è sempre oltre se stesso, perché se fosse identico a se stesso, l'ente appunto sarebbe un dato, e quindi si tornerebbe a fare scienza, nel senso si ritornerebbe ad abbracciare quell'atteggiamento naturale, dogmatico, quel realismo ingenuo, proprio tanto dei teologi quanto degli scienziati, che appunto intende l'individuo come qualcosa di statico, ma se l'individuo è qualcosa di statico, è trascendente la coscienza, è un rispecchiato, invece vedremo che in queste stupende pagine, Husserl se la prende proprio con queste due questioni, anzitutto l'ente non è trascendente, ma trascendente e immanente, quando usciamo dall'atteggiamento naturale e dogmatico, sono la stessa cosa, non c'è distinzione reale di immanenza e trascendenza, una volta che siamo giunti a questa consapevolezza, siamo appunto nell'orizzonte della fenomenologia pura, possiamo criticare la teoria del rispecchiamento, non ha senso rispecchiare qualcosa che non ci trascende, se qualcosa ci appartiene, è qualcosa che si mostra e via via l'identità si afferma variando se stessa, continua ad affermare la sua identità variando, questo è l'ente, questo è il fondamento dell'identità, identità è negazione, e l'identità come negazione si può affermare sulla base del superamento dell'opposizione di trascendenza e immanenza, bene, forti di queste basi teoretiche leggiamo il paragrafo 26, che parla appunto della opposizione der Gegensatz di trascendenza e immanenza, scrive Husserl, grazie al metodo della riduzione fenomenologica, la cui necessità universale è assicurata in via di principio e grazie alla possibilità con ciò stesso esibita di una riflessione pura quale fonte universale di conoscenza, riflessione pura appunto quella che oltrepassa l'atteggiamento naturale, senza negare gli enti come qualcosa di statico, ma ponendoli come qualcosa di statico, cioè ponendo la distinzione soggetto-oggetto sulla base di un orizzonte che comprende questa distinzione superandola e quindi superando l'atteggiamento dogmatico dell'ente come statico, sempre identico a se stesso, appunto con ciò stesso esibita di una riflessione pura, reinenreflexion, quale fonte universale di conoscenza. Abbiamo dunque delimitato una regione scientifica, la regione dei fenomeni, in senso fenomenologico, delle pure cogitazioni e dei loro cogitata. Essa è totalmente separata da tutti gli altri campi di conoscenza. In altri termini, l'essere immanente, nel senso stretto e genuino dell'espressione, è radicalmente distinto dall'essere trascendente, laddove il concetto di trascendenza è determinato da quello di immanenza e indica ogni tipo di essere individuale posto dalla coscienza pura, ma che non è a sua volta coscienza pura. Appunto, qui sembra in qualche modo dire in altri termini ciò che ha detto bene in Idee 1, cioè mettere fra parentesi l'atteggiamento naturale significa negare il mondo. O per dirla in termini heideggeriani, porre la differenza ontologica non significa negare gli enti, ma anzi significa dargli un fondamento. E poi continua Husserl, della sfera trascendente fa parte l'intera natura, ciò che noi chiamiamo universo e tendiamo a considerare la totalità dell'essere in generale. Ne fanno parte anche tutte le trascendenze di secondo grado, le pretese trascendenze della metafisica e della religione, dato che Dio, per esempio, non è una datità assoluta, non è un dato di coscienza né qualcosa che in quanto appartenente al cogito come l'ego puro potremmo incontrare in riduzione fenomenologica. Ecco, e qui Husserl pone sullo stesso piano gli enti della natura, gli enti della religione, gli enti della metafisica, qui è chiaramente una metafisica precritica, precantiana, no? Una metafisica appunto dell'anima di Dio e del mondo e qui dice appunto tutti questi enti si basano sul dogmatismo. Perché? Perché noi non li troviamo come enti assoluti, qui parla di datità assolute, dopo la riduzione fenomenologica. Perché non li ritroviamo? Perché se dopo la riduzione fenomenologica noi trovassimo un ente come datità assoluta, non avremmo fatto la riduzione fenomenologica, saremmo ricaduti nel realismo ingenuo, cioè proprio in quella tesi naturale che attraverso l'epochè la riduzione fenomenologica si apprestano a negare, ma a superare e conservando. Superare e conservando perché appunto il mondo naturale non viene negato, continua ad apparire, ma appare su un nuovo fondamento. E poi continua Husserl, da un lato c'è la totalità delle realtà naturali e soprannaturali, sono messe tutte assieme perché sono tutte trascendenti. Dall'altro quella della coscienza, in quanto totalità di ciò che in linea di principio può essere dato assolutamente. L'unico assoluto è la coscienza. Perché? Perché non è un dato. Il dato, quando è posto in modo assoluto, trascendente, in realtà non è posto, o meglio, è posto solo dogmaticamente. Quando il dato non è più post-dogmaticamente, cioè quando si fa fenomenologia, il dato è sempre oltre se stesso. Nonostante questa sia la più radicale di tutte le partizioni fra gli oggetti, ecco, la più radicale delle partizioni tra gli oggetti non è quella enti immanenti o enti trascendenti, ma è quella tra l'ente e l'essere, potremmo dire, in termini heideggeriani, tra qualsiasi ente inteso come identico a se stesso, naturale, teologico, eccetera, eccetera, metafisico, e dall'altro invece ciò che non è un ente, ciò che non è un dato, la coscienza, sulla base della quale l'ente può essere inteso come dogmaticamente, come qualcosa che è sempre oltre se stesso, cioè appunto come essenza. In un ser l'essenza non è assolutamente qualcosa di statico, non è assolutamente qualcosa di statico, lo vedremo, lo dice molto bene anche qui. Ecco, quindi scrive Husserl, da un lato c'è la totalità delle realtà naturali e sopranaturali, dall'altro quella della coscienza, in quanto totalità di ciò che in linea di principio può essere dato assolutamente. Nonostante questa sia la più radicale di tutte le partizioni tra gli oggetti e nessun ponte conduca dall'uno all'altro ambito, non c'è nessun ponte che va dalla coscienza degli oggetti agli oggetti, perché se ci fosse un ponte ci sarebbe teoria del rispecchiamento, ma se ci fosse rispecchiamento ci sarebbe realismo ingenuo. Ecco, nessun ponte conduce dall'uno all'altro ambito. Se tuttavia si considerano le connessioni più intime, la trascendenza si riferisce necessariamente all'immanenza e l'immanenza alla trascendenza. Ecco qui, se facciamo riduzione trascendentale, immanenza e trascendenza sono lo stesso in ultima istanza. Realismo e idealismo sono lo stesso direbbe Wittgenstein. Qui tra l'altro Husserl in questa frase la trascendenza si riferisce necessariamente all'immanenza e l'immanenza alla trascendenza utilizza il termine Bezogen Bezogenheit è il vincolo è il vincolo e poi continua ma Husserl il mondo reale la totalità delle realtà naturali è stato messo tra parentesi e quindi fuori gioco dalla riduzione fenomenologica ma nella modificazione rappresentata dalle parentesi esso è tuttavia senz'altro presente ecco qui è presente ma è presente in modo nuovo cioè non più dogmatico in un certo modo nel campo fenomenologico qui sta la sorgente di tutti i problemi autenticamente trascendentali soprattutto di quelli specificamente gnoseologici qualsiasi problema determinato legittimo e sensato che sia possibile formulare a questo riguardo presuppone senz'altro la riduzione fenomenologica è il campo della coscienza pura e quindi la scienza che chiamiamo fenomenologia pura e appunto qui finisce il paragrafo 26 inizia il 27 che si intitola il trascendente nell'atteggiamento einstellung fenomenologico no a proposito di questo atteggiamento di questa posizione einstellung in un altro scritto Husserl dice il mondo naturale rimane allora alla mano for andene io rimango come prima all'interno del atteggiamento naturale indisturbato dai nuovi atteggiamenti e così dice Husserl nel paragrafo 27 per giungere agli autentici problemi trascendentali compiamo la seguente riflessione e poi fa una tipica mossa australiana no prende no le redini del discorso in prima persona non è più discorso è proprio carne viva qui usa dice io colui che conosce di welt se ich io colui che conosce vedo il mondo e lo vedo grazie al mio conoscere da prima grazie al mio esperire poi grazie al pensiero che vi connetto che al suo vertice è pensiero scientifico e poi dice ich sehe di dinge selbst io vedo le cose materiali stesse le ho davanti a me in carne e ossa ma le devo conoscere più da vicino nell'esperienza mi sono date parzialmente in maniera molto lacunosa perciò devo andare di esperienza in esperienza escludendo le eventuali illusioni ed esperienze apparenti di vario tipo smascherate dal contesto generale dell'esperienza poi devo mettere in campo le attività cognitive per determinare logicamente le datità dell'esperienza fare questo nel modo più completo è l'obiettivo della scienza il cui motore interno è l'interesse puramente teoretico ma è anche l'opera che essa di fatto compie in costante approssimazione costante approssimazione ecco qui c'è questo questa mediazione profondamente iumiana potremmo dire ci sono stati anche dei grandi fenomenologi italiani che hanno in qualche modo mediato il discorso usselliano con ium ed è proprio questa costante approssimazione che è la cifra del dato entro l'orizzonte della coscienza trascendentale quando non c'è più rispecchiamento quando non c'è più rispecchiamento quando non c'è più opposizione di soggetto oggetto il dato non può essere mai qualcosa di statico ma la sua identità consiste in un continuo oltrepassamento di sé in questo movimento continua Husserl appunto questa identità e quest'ante approssimazione ma senza avere un modello assoluto è movimento in questo movimento ottengo sempre di nuovo una soddisfazione pura quando incontro l'evidenza compiuta che è per me l'annuncio di ogni nuovo progresso verso il compimento dell'opera certo si potrebbe dire anche le scienze della natura pensano di non essere mai giunte alla fine di un percorso ma che in qualche modo ogni teoria possa venire falsificata è vero ma le scienze della natura dicono che ogni teoria può venire falsificata sulla base di un mondo là fuori che ha dei caratteri oggettivi dati una volta per sempre insomma invece qui c'è proprio un atteggiamento molto diverso proprio perché si ribasa sul scardinamento della teoria del rispecchiamento è straordinario ciò che insegna la riflessione dice questo e continua io esperisco ich erfare la natura le cose naturali in carne e ossa la riflessione mi insegna che questa frase esprime una coscienza che in se stessa è coscienza della natura delle cose dei processi naturali che ha cioè tutto ciò in se stessa quale contenuto che si manifesta e viene inteso e lo ha in un modo di coscienza che lo intende e lo pone come realtà in carne ed ossa e poi dice Husserl il mondo esiste qui per me è dato immediatamente si ist unmittelbar gegeben immediatamente visto unmittelbar gesehen e afferrato e saputo per via mediata come visibile e afferrabile e su questa base è per via mediata pensato tutto ciò significa io ho collegato determinati contenuti della mia rappresentazione in un certo modo a formare delle unità manifestative e l'incarne e ossa è un loro modo di coscienza l'essere realmente un altro quello correlato della mia presa di posizione della doxa esperiente della posizione di esperienza mi accorgo però che se il corso delle esperienze o meglio delle percezioni deriva da un certo stile normale lo stile della concordanza in determinati passaggi io devo mutare la mia presa di posizione devo per esempio esperire come nullo ciò che mi era finora dato come realtà in carne ed ossa come cosa realmente esistente cancellando per così dire quel realmente ecco è questo no? il movimento devo devo esperire come nullo ciò che mi era finora dato come realtà in carne ed ossa oppure può capitare che la cancellazione riguardi l'essere reale soltanto di alcune caratteristiche della cosa esperita sicché dovrò dire che la cosa è bensì qui ma diversamente da come mi era da prima manifestata mi si era da prima manifestata ecco questo questo movimento appunto tutto interno alle cose il paradigma è la cosa stessa ma dato che la cosa stessa si modifica è il paradigma stesso l'eidos appunto che si modifica in continuazione e l'eidos non solo è immanente ma è la cosa stessa è un'essenza individuale qui è sventata qualsiasi possibilità di fare in fenomenologia pura una teoria degli insiemi una teoria delle classi ma questo non significa che la teoria delle classi sia negata è invece posta nell'atteggiamento naturale che non è eliminato ma che è solo messo fra parentesi cioè superato conservato dall'atteggiamento fenomenologico puro nulla di nuovo sotto il sole in realtà tutta questa roba qui l'aveva già detta molto bene Hegel e continua Husser noto allora che qualsiasi qui e non qui qualsiasi fatto così e fatto diversamente qualsiasi cosa naturale cosa materiale soggetto psichico ogni tipo di proprietà stato causa ed effetto nonché ogni presente passato e futuro e naturalmente anche ogni probabile possibile dubbio eccetera che tutto ciò è indice di connessioni della mia coscienza che si svolgono secondo un certo stile ciò che vale per la sfera dell'esperienza e delle altre intuizioni donatrici percezione ricordo attesa entropatia ein fulung vale evidentemente per tutti i tipi di conoscenza ovvero per tutti i modi in cui si danno delle oggettività e parimenti per tutte le verità e le teorie e per tutte le rispettive determinazioni teoretiche dell'essere oggettivo nell'atteggiamento naturale ingenuo dicevo e non potevo non dire qui nel mezzo di questo spazio che si estende per tutto l'universo ora in questo tempo in cui si diparano tutti i processi mondani nel mezzo delle realtà naturali che esistono in esso e sono connesse da legami causali naturali io e tutti gli altri uomini siamo delle realtà naturali come le altre in questo contesto si svolgono le causalità psicofisiche i processi di stimolo provocano in noi delle sensazioni e nelle interiorità psichiche sulla base di leggi di natura psicologica o psicofisica insorgono strutture ulteriori formazioni prodotte da dati sensoriali o già dalle loro modificazioni interiormente costituite ne scaturiscono percezioni e ricordi di esse atti signitivi attività e prodotti cognitivi rappresentazioni concettuali giudizio enunciati inferenze eccetera in breve si produce così secondo leggi naturali come qualsiasi altra specie di coscienza una conoscenza del mondo con tutti i suoi livelli caratterizzabile in sé come una sorta di riproduzione del mondo mediante intuizioni sensibili e pensieri e qui appunto c'è l'ultimo passo che è introdotto da questa riproduzione del mondo che è la sua grande critica alla teoria del rispecchiamento critica alla teoria del rispecchiamento che poi verrà svolta forse in modo ancora più efficace da Wittgenstein nei primi paragrafi delle ricerche contro Agostino e poi anche in essere il tempo di Heidegger e appunto scrive Husserl nell'atteggiamento della riflessione radicale questa concezione pare rovesciarsi invece di essere il mondo ad abbracciarmi sono io che lo abbraccio il mondo mi abbraccia in quanto essere umano io invece l'io che compie questa riflessione radicale non sono abbracciato da alcuno spazio da alcun mondo fuori di me non c'è un mondo di cose che affianchino questo io qui sembra quasi un mistico non c'è un mondo di cose che affianchino questo io come un essere altrettanto legittimo e altrettanto assoluto in connessione causale con lui e da lui riflesse come in uno specchio von him als einem spiegel abgespiegelt e poi infine conclude infatti l'io che rispecchia il mondo dice dem das ich das die welt spiegelt l'io che rispecchia il mondo ogni genere di rispecchiamento ogni genere di causalità tutto è per me quale io della riflessione radicale e per i miei vissuti di coscienza dati assolutamente in questa riflessione un prodotto costitutivo la qualcosa implica grazie all'essenza propria di quei vissuti e delle loro connessioni e grazie alla coscienza unitaria immanente fondata in essi secondo la loro essenza che sia qualcosa di esperito qualcosa di pensato in special modo qualora siano soddisfatti i relativi presupposti idetici qualcosa di posto con evidenza come valido